Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo subito con il consueto bollettino covid sono 10 nuovi casi di covid 19 registrati oggi nella nostra regione su 1556 tamponi effettuati con un tasso di positività pari allo 0,6 per cento i nuovi casi hanno età compresa tra i 9 e i 90 anni complessivamente nella nostra regione i casi dall'inizio della pandemia sono 74 151 i positivi con età inferiore ai 19 anni sono tre di cui due residenti in provincia di pescara e uno in provincia di chieti il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 2486 si trattano di una 98enne della provincia di chieti e di una 80enne della provincia di teramo mentre il numero dei dimessi guariti sale di 60 unità rispetto a ieri così gli attualmente positivi in abruzzo sono 5.278 119 pazienti meno uno rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva 12 invariati rispetto a ieri con zero nuovi ingressi in terapia intensiva mentre gli altri 5.147 meno 52 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle asle del totale dei casi positivi 18.705 sono residenti o domiciliati in provincia dell'aquila più uno rispetto a ieri 19.308 in provincia di chieti più tre rispetto a ieri 18.084 in provincia di pescara più sei rispetto a ieri 17.292 in provincia di teramo più uno rispetto a ieri 581 sono fuori regione meno due rispetto a ieri e 181 invariati per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza a comunicarlo come di consueto l'assessorato regionale alla sanità e proseguiamo con il covid immunità di gregge in abruzzo entro fine agosto questo l'obiettivo della regione che punta ad accelerare le vaccinazioni il servizio è di paolo renzetti immunità di gregge in abruzzo per fine agosto questo l'obiettivo della regione che punta ad accelerare ancora le vaccinazioni che da oggi vedranno la prenotazione senza limiti per fasce di età il presidente marco marsilio auspica che ci sia un costante rifornimento di vaccini nel mese di giugno in modo da accelerare ancora le inoculazioni dipende tutto dalla fornitura che riceveremo abbiamo dimostrato di saper somministrare tutti i vaccini che ci vengono dati e se ce ne dessero di più faremmo prima più velocemente quindi dipende tutto da questo con i ritmi attuali insomma tra ferragosto e la fine del mese arriveremo all'obiettivo e ci stiamo avvicinando a larghi passi e l'abruzzo è tra ieri il sole 24 ore pubblicava una tabella che mostra come l'abruzzo sia la terza regione in italia per numero di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione residente quindi stiamo facendo del nostro meglio si può sempre migliorare ovviamente siamo al lavoro ogni giorno costantemente per fare ancora meglio questa campagna e spero appunto che la fornitura da Roma dal commissario figliolo avvenga sempre in maniera regolare purtroppo come avete visto anche negli ultimi tempi qualche giorno diciamo di attesa o di ritardo ha comportato anche qualche slittamento di richiami o qualche problema in alcuni centri vaccinali però d'altronde quando noi vacciniamo al 95-90 arriviamo prima del rifornimento arriviamo al 95-96-97% delle dosi somministrate vuol dire che abbiamo davvero uno o due giorni di autonomia rispetto ai rifornimenti nei nostri frigoriferi e nei nostri magazzini non ci sono come dire scorte che stanno lì a marcire andiamo avanti velocemente e penso che sia nostro dovere farlo questo è un ottimo segnale perché è chiaro che andando avanti si rischia anche di creare quell'effetto per il quale le fasce di età più giovani pensando di essere meno a rischio non ritengono necessario doversi vaccinare pensano che sia sufficiente aver vaccinato le categorie fragili e più anziani e che quindi nel frattempo con l'estate come vedete i numeri dei contagi si abbassano sono sempre più bassi noi lunedì saremo in zona bianca questo potrebbe creare come effetto indotto un rilassamento nella tensione e nell'attenzione a proseguire nella campagna vaccinale quindi il fatto che le categorie dei più giovani alle quali abbiamo aperto cominciando con i maturandi la possibilità di vaccinazione rispondano massicciamente è un ottimo segnale vuol dire che c'è una cultura diffusa della prevenzione e della salute pubblica che fa ben sperare inizia oggi per tre giorni dalle 18 alle 23 la vaccinazione dei maturandi della provincia di Teramo l'ASL ha scelto l'Hub dell'Università di Teramo come sede vaccinale per i 2100 studenti che il 16 giugno sosterranno gli esami di Stato ottimo il bilancio dei dati complessivi sul territorio provinciale attualmente il 48% della popolazione Target ha già ricevuto il vaccino Tania Bonnici Castelli l'ASL di Teramo dà l'avvio alla vaccinazione dei maturandi tre giorni per vaccinare 2100 studenti dell'intera provincia che il 16 giugno sosterranno gli esami di Stato la loro prima importante prova della vita dalle 18 alle 23 fino a sabato prossimo l'Hub vaccinale dell'Università di Teramo accoglierà i ragazzi chiamati questa volta ad una prova di responsabilità intanto la campagna vaccinale messa in atto dall'azienda sanitaria Teramana ha ottenuto una grande risposta dalla popolazione il 48% dei Teramani Target ha ricevuto già il vaccino parte la vaccinazione ai maturandi ma in un bilancio complessivo come va? io devo dire che va molto bene noi siamo davvero contenti e soddisfatti lo dico sia come direttore sanitario dell'Alz come referente regione dei vaccini ieri il sole 24 ore ci dava terzi assoluti in Italia fra dosi somministrate ogni 100 mila abitanti siamo fra le prime 5 secondo il Ministero della Salute davvero una bella campagna vaccinale Teramo si sta difendendo bene però l'obiettivo è quello che la regione raggiunga l'immunità di greggio prima possibile abbiamo detto settembre ma insomma io credo che se continuiamo a mantenere questo trend dove vacciniamo sempre alcune migliaia di persone sopra la media credo che potremo anche anticipare di qualche giorno un ruolo importante nella campagna di vaccinazione di massa dell'Asla di Teramo lo ha svolto l'Ateneo Teramano un hub dove si riesce a vaccinare fino a 1700 persone al giorno tanti vaccinati che hanno scoperto che a Teramo esiste davvero una bella università un luogo che prima di oggi non conoscevano e che come promette il Rettore Mastrocola ad inizio ottobre sarà covid free Il successo di questa campagna di vaccinazione dell'Asla di Teramo insomma anche come protagonista soprattutto l'Università di Teramo è diventata un hub vaccinale eccezionale Sì, ha come protagonista anche il nostro entusiasmo ma direi la capacità di fare sinergia istituzionale che penso che sia l'elemento vincente di tutta l'organizzazione che ci siamo dati ovviamente anche la possibilità di interagire con persone dialoganti e in grado di organizzare quando parliamo di migliaia di persone non è mai facile organizzare noi abbiamo messo le strutture abbiamo messo a disposizione i nostri dipendenti dietro c'è tutta l'organizzazione sanitaria che non è semplice che ci porta a vaccinare tra i primi in Italia i maturandi e ci porterà sicuramente tra i primi in Italia a vaccinare anche i nostri studenti Ancora il capitolo legato alla sanità ieri pomeriggio si è riunita la Commissione Sanità della Regione per discutere della bozza di riordino della rete ospedaliera secondo il Presidente della Commissione Qualieri non ci saranno tagli nei presidi sanitari della Marsica una bozza che non toglie dignità ma che rielaborata premia e rafforza affinché i 140.000 abitanti circa del bacino marzicano d'Abruzzo possano ancora dormire sonni tranquilli si è riunita in convocazione straordinaria la Commissione Sanità in Regione Abruzzo al centro del tavolo di discussione ancora la bozza in attesa di ratifica da parte del Consiglio regionale e poi del Ministero del riordino della rete ospedaliera in Abruzzo Chi ci lavora, chi la fa tutti i giorni la conosce ne conosce i difetti e i pregi quindi essere riusciti a soddisfare le loro richieste penso è un punto di grande orgoglio e questo già giustifica il mio ruolo in questa regione quindi insomma niente tagli e non ci saranno tagli o meglio quelli paventati in questi mesi le preoccupazioni possono rientrare e si ridà forza a quelli che sono i presidi sanitari anche appunto di Tagliacozzo e Pescina sì sì, nessun taglio, anzi un aumento dei posti abbiamo ridato dignità da alcuni reparti che sono delle eccellenze di Avezzano quindi che prendono anche una dignità di ruolo Tagliacozzo prende ulteriormente la riabilitazione respiratoria che mancava e l'ospedale di Pescina ha una vocazione di assistenza con due moduli della lungodeggenza che era quello che volevano e che a gran voce da anni hanno richiesto e noi finalmente l'abbiamo ottenuta una bozza che inizialmente aveva fatto storcere il naso alle forze politiche d'opposizione ma soprattutto a tanti attori sanitari ed istituzionali del territorio in particolar modo marsicano e proprio dalla Marsica era partita una mobilitazione capeggiata dal sindaco Giovanni Di Pangrazio della città di Avezzano che aveva radunato a Palazzo Città medici e operatori sanitari affiancato dai due assessori competenti in materia Colizze e Gallese un allarme rosso per la discesa ancora di qualche gradino indietro rispetto alle funzionalità ancora in essere nei tre presidi marsicani lanciato anche da Pescina e Tagliacozzo con le loro strutture quasi gemelle un clima collaborativo che è stato raccolto dal presidente della commissione sanità in regione Abruzzo Mario Quaglieri e dal segretario della stessa commissione Simone Angelo Sante entrambi consiglieri di maggioranza ed entrambi medici attivi in campo anche durante la pandemia per Avezzano 14 posti letto in più col passaggio da 226 a 240 unità Possiamo dire anche alla luce delle accuse del centrosinistra regionale dei mesi scorsi che il centrodestra si è unito nonostante qualche dissidio interno e alla fine è riuscito a portare a casa il risultato Io oggi presenterò questo inizio di bozza questa bozza che poi vedrà anche tutta una serie di percorsi amministrativi con le commissioni il consiglio regionale quindi questa è una bozza già nella bozza si sono calate tutte le nostre esigenze il centrosinistra rimane un ricordo in bocca al lupo centrosinistra È stato l'elicottero della Capitaneria di Porto ad inaugurare la piattaforma per elisoccorso a Pianella operativa anche di notte sarà un punto strategico in caso di emergenza Vediamo Si inserisce all'interno del programma Pianella Sicura la nuova piattaforma per elisoccorso inaugurata a Pianella nei pressi dello stadio comunale incontrata a Nardangelo Il progetto ha visto la volontà dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Marinelli di accrescere tutti i livelli di sicurezza sanitaria e di protezione civile a partire dalla campagna sui defibrillatori posizionati nei punti strategici della città oltre alla realizzazione del palatenda che in questo periodo di pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nella campagna di screening L'idea era quella di offrire l'opportunità ai mezzi di soccorso aereo gli elicotteri in particolare di poter avere un punto di approdo sicuro per l'intero comprensorio quindi questa è una piattaforma che rimane illuminata anche permanentemente di notte quindi in qualsiasi momento una necessità di protezione civile piuttosto che di soccorso sanitario può arrivare in sicurezza e sapere che ha un approdo baricentrico rispetto a tante altre realtà territoriali oltre che a quella pianellese la piattaforma è stata realizzata grazie ad un finanziamento regionale di 95.000 euro nell'ambito della finanziaria 2020 a cui sono stati aggiunti 20.000 euro di fondi comunali è una soddisfazione della regione Abruzzo che ha contribuito con la finanziaria 2020 a cofinanziare con un bel importo questa realizzazione e anche una soddisfazione per questa amministrazione per sindaco perché ha dotato il territorio di una infrastruttura che speriamo non venga mai utilizzata ma che comunque è importante per tutta l'area Vestina le nostre valli i nostri promontori montagne alternate a sua volta da pianure la costa l'entroterra comporta sempre dei tempi di raggiungimento molto complessi ed estremi quindi avere queste infrastrutture dislocate sul territorio in luoghi ben accessibili e facilmente poi individuabili è sicuramente un passo avanti per favorire l'emergenza sul territorio e la gestione dell'emergenza sul territorio l'atterraggio inaugurale è stato effettuato da un elicottero della guardia costiera mezzo abilitato al volo notturno nella nostra regione faccio i miei complimenti al comune di Pianella e alla regione che ha finanziato questa importantissima opera come detto prima poc'anzi il sindaco strategica perché per i nostri velivoli che sono altamente operativi e specializzati è un punto d'appoggio di riferimento nelle operazioni di soccorso a tutti i livelli visto che viene impiegato anche nei dispositivi di protezione civile e quindi anche nelle aree retrostanti alla fascia costiera ieri pomeriggio nella zona industriale di Giulianova è scoppiato un incendio che ha reso necessario l'intervento di molti uomini e mezzi dei vigili del fuoco ora si indaga sull'origine delle fiamme l'ipotesi più probabile è quella del dolo Giuseppe Dintino è forse doloso l'incendio scoppiato ieri nella zona industriale di Giulianova intorno alle 14 una coltre di fumo nero aveva attirato l'attenzione dei passanti anche a chilometri di distanza il rogo che all'ambito anche alcune aziende della zona si è sviluppato in un canneto che nasconde rifiuti di ogni tipo vecchi indumenti mobili sfasciati copertoni tutta immondizia che ha alimentato le fiamme uomini e mezzi dei vigili del fuoco sono giunti da Teramo Roseto Nereto Ascoli Piceno e Mosciano e hanno impiegato alcune ore a domare l'incendio e bonificare la zona con l'ausilio dei carabinieri il fuoco è stato spento prima che raggiungesse l'area del depuratore lì presente ora si indaga sull'origine delle fiamme l'ipotesi più quotata è quella dell'incendio doloso forse una sigaretta gettata incautamente nella sterpaglia vicino al fiume Tordino oppure qualcuno ha dato fuoco a dei rifiuti nel tentativo di liberarsene non sarebbe la prima volta che accade in quella zona anche se mai un incendio aveva raggiunto queste dimensioni nessuna pista esclusa dagli investigatori seppure quella dolosa è la più probabile è infatti escluso che le fiamme si siano sviluppate per autocombustione a causa del caldo le telecamere di sicurezza di un'azienda del posto però non hanno immortalato nessuna persona nei momenti che hanno preceduto l'incendio i giovani democratici d'Abruzzo con un sit-in a Pescara in Piazza Italia davanti alla biblioteca ex provinciale d'annunzio hanno chiesto alla regione Abruzzo di riaprire le aule studio presso le biblioteche regionali per proporre un progetto di valorizzazione delle biblioteche vediamo riaprire la biblioteca d'annunzio agli studenti questa è la richiesta dei giovani democratici di Pescara sì questa mattina siamo davanti alla biblioteca d'annunzio per chiedere la riapertura di questa biblioteca quindi in particolare della problematica di Pescara dove città universitaria sono disponibili solamente 21 posti in cui studiare ma siamo qui per chiedere in generale la riapertura e la valorizzazione di tutte le biblioteche regionali abbandonate ormai da febbraio 2020 è stato consentito solamente da pochi mesi il prestito dei libri ma le biblioteche come luogo di cultura come aule studio sono abbandonate a se stessi ancora chiuse quindi gli studenti non hanno un luogo in cui poter studiare e questa regione non si interessa a questa tematica centrale quella che noi abbiamo chiamato il cuore della cultura una richiesta che ovviamente non riguarda solo Pescara ma Strangelo ma tutta la regione certo la situazione drammatica della biblioteca d'annunzio è anche la di Giampaolo a Pescara perché anche la di Giampaolo verso in condizioni di mancanza di personale importanti e molto debilitanti è una condizione comune a molti quasi tutti gli spazi di cultura purtroppo nella nostra regione stiamo partendo a livello regionale con l'ottimo nostro responsabile università Luca Guerrini con una mappatura dell'accesso agli spazi universitari quindi non solo aule studio ma anche mense anche residenze universitarie e voglio dire una cosa sull'università di Pescara molto importante perché Saverio parlava di 21 spazi di studio 21 spazi non vuol dire 21 indirizzi vuol dire 21 sedie disponibili per gli studenti pescaresi solo all'università e a proposito di luoghi di studio volevo dire che i giovani democratici d'Abruzzo e di Pescara rilanciano la petizione lanciata dal mio amico Gianmarco Girolami per intitolare a Roberto Straccia il giovane ragazzo fuorisede studente ucciso qualche anno fa a Pescara un'aula studio dell'università di Pescara uno studente fuorisede pescarese uno di quelli che danno valore aggiunto alla nostra città tutti i giorni famiglia e tutta Pescara con questo gesto devono chiedere verità da oggi spostarsi con i mezzi pubblici tra le città abruzzesi sarà più semplice e chiaro basterà infatti un click nella sezione Google Maps vediamo spostarsi con i mezzi pubblici fra le città abruzzesi sarà più semplice e chiaro basterà un click nella sezione Google Maps per ottenere la ricerca orari il travel planning con le relative fermate fino alla destinazione desiderata grazie all'accordo sottoscritto fra il polo di innovazione nel trasporto e nella logistica inoltre Google e la regione Abruzzo dipartimento delle infrastrutture e dei trasporti tutti gli utenti potranno beneficiare di servizi di digitalizzazione e infomobilità degli orari di trasporto Sì diciamo una novità che è finalmente arrivata anche in Abruzzo che appunto noi riteniamo sia indispensabile per poter fornire per poter fornire un servizio moderno ed efficace ai cittadini infatti in questo modo è possibile già delineare un percorso e quindi vedere in che modo raggiungere le località di destinazione nel più breve tempo possibile avendo le più informazioni possibili io ringrazio poi inoltre per aver collaborato con la regione in questo servizio è chiaro che è un primo passo in quanto non tutte le linee sono state digitalizzate quindi non tutte sono ancora presenti però riteniamo che nel giro di qualche mese si possa portare a compimento questa iniziativa e fare in modo che tutto il trasporto pubblico locale della regione Abruzzo possa essere visibile su mappe e quindi tutti i cittadini possono avere in tempo reale le informazioni necessarie Sì diciamo che non è un'app specifica nel senso che noi abbiamo utilizzato le strutture di Google nel senso che abbiamo come Polo attivato una collaborazione con Google e quindi Google ci ha dato un accesso al suo sistema per inserire i programmi digitalizzati quindi noi che abbiamo fatto abbiamo prima digitalizzato fermate esercizi poi abbiamo preso questo file con un formato compatibile con i sistemi Google e l'abbiamo inserito nel mondo Google quindi in realtà non esiste un'app separata ma è l'app di Google Map che noi tutti quanti utilizziamo per i nostri spostamenti dove inserisci semplicemente origine e destinazione e attivi l'opzione trasporto pubblico che è quell'iconcina che ha il tram mi sembra quindi una volta fatto quello automaticamente ti escono tutti gli orari inseriti oggi ci sono inseriti solo quelli della di Fonzo di cui sono anche presidente e del Trenitalia però ovviamente è un sistema aperto nel senso che è un contenitore dove tu più inserisci più questi dati poi appaiono agli utenti quindi chiunque può andare su Google Map inserisce origine destinazione attiva l'iconcina trasporto pubblico che mi sembra che sia a destra dell'icona autovettura e automaticamente il sistema gli propone tutte le soluzioni di viaggio ed ora una notizia appena abbattuta dall'agenzia ANSA è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita domani per accertare le cause della morte di Marusca di Nicola Antonio 86 anni di San Giovanni Tiatino nel Chietino investita la sera del 30 maggio scorso nel comune di residenza la donna era ricoverata all'ospedale di Chieti l'incidente è avvenuto dentro un parcheggio condominiale l'anziana secondo quando è stato possibile ricostruire successivamente dal momento che l'incidente non era stato rilevato è stata investita da una donna che in quel momento stava facendo retromarcia subito soccorsa era stata portata in ospedale a Chieti dove è deceduta il primo giugno nel reparto di terapia intensiva accertamenti e indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Chieti andiamo avanti con il nostro telegiornale presentata a Pescara la diciannovesima edizione dei giochi del mare la manifestazione si terrà a Vasto da venerdì 4 a martedì 8 giugno vediamo Assessore domani partiranno a Vasto i giochi del mare è una bella occasione tra sport e turismo non soltanto sport e turismo ma giovani scuole inclusione sanità un messaggio molto forte che la regione vuole lanciare con un grande evento la regione Abruzzo ha ritenuto opportuno credere nei grandi eventi sì dal dal momento covid quando organizzare grandi eventi era non affatto scontato altre regioni hanno rinunciato legittimamente a organizzare grandi eventi l'Abruzzo si sta contraddistinguendo nell'organizzazione di grandi eventi credendo appunto nella ricaduta socio-economica sui territori oltre che nel messaggio sportivo saranno cinque giornate importantissime ripeto non soltanto per il messaggio sportivo e per la ricaduta su tutto il comprensorio ma ci saranno messaggi importanti di inclusione perché sarà il coinvolgimento del mondo paralimpico ci sarà il coinvolgimento nelle ultime due giornate delle scuole perché il messaggio arrivi forte ai nostri giovani e quindi il messaggio sportivo di vita e di ritorno alla vita deve passare fortemente attraverso lo sport è questo in cui crediamo e poi in ultimo anche le giornate dei screening cardiologico perché lo sport deve andare di panipasso con una sanità del corpo è questo in cui stiamo credendo e quello che stiamo promuovendo attraverso un grande evento che abbia tanti messaggi positivi e questa notizia ci porta alla pagina sportiva con un gol di Rodia nel secondo tempo il Chieti passa sul campo dell'Aquila e si avvicina alla vittoria del campionato i teatini sono pronti a tornare in Serie D a un anno dalla deludente retrocessione vediamo una partita una partita un derby che valeva la promozione in Serie D o quasi l'Aquila poteva e doveva soltanto vincere mentre il Chieti aveva due risultati su tre a favore e poi sempre sulla carta gli uomini di Bolzan avevano dalla loro il fattore campo e il tifo dei mille sostenitori che sono accorsi in massa al Gran Sasso Italo-Acconcia questo sulla carta poi nella realtà le cose sono andate in modo diverso all'ottavo è il Chieti a rendersi pericoloso con un tiro forte ma centrale di Fabrizi l'Aquila risponde al dodicesimo con un'accelerazione di Miciche il cui traversone basso viene anticipato da Filosa al sedicesimo ancora il Chieti con Farindolini fuori misura al quarantaduesimo l'occasione più ghiotta del primo tempo capita all'Aquila con tiro cross di Pellecchia per Di Federico che ha prolungato ma il propiziante intervento con una mano del portiere del Chiete mette fuori causa ancora Miciche palla fuori ma di un soffio siamo al secondo tempo che inizia al primo minuto ancora con un tiro di Fabrizi l'Aquila risponde al quarto con il trio Pellecchia Miciche di Federico che quasi a tu per tu con il portiere ha tirato alto al ventesimo chiave di volta della partita un minuto prima dalla panchina il tecnico del Chieti Lucarelli richiama Spadafora e butta nella mischia il fresco Mattia Rodia e lui non delude Pietrantonio lo pesca libero e gli serve su un piatto d'argento l'assist che gli permette di buttare il pallone alle spalle di Domingo la rete si gonfia e il Chieti passa in vantaggio 1 a 0 sarà così fino alla fine l'Aquila tenta il tutto per tutto con assalti a volte imprecisi altri fuori misura dopo un recupero di quasi 5 minuti arriva il triplice fischio del signor Buonasera di Enna dopo questa vittoria il Chieti è a più 8 dall'Aquila Calcio a 5 solo ai supplementari il Florida Pescara cede 6 a 4 alle capitoline dell'FB5 team che si aggiudicano lo scudetto under 19 femminile nella finale giocata a Montesilvano per le ragazze di Maurizio Blasetti resta una grande stagione coronata dalla vittoria della Coppa Italia Sergio Zappalorto Stavolta dice male al Florida la seconda finale a distanza di pochi giorni la squadra di Blasetti che va comunque solo applaudita sfiora dopo la conquista della Coppa Italia Under 19 femminile anche il prestigioso tricolore l'impresa la prima storica riuscì nel 2011 al città di Pescara dopo aver eliminato ai quarti la Osta e in semifinale la corazzata Lazio detentrice del titolo il Florida deve cedere alle altre capitoline dell'FB5 team ai supplementari finisce 6 a 4 una gara palpitante ricca di emozioni gara che il quintetto della famiglia Diodato che da anni onora il futsal giovanile abruzzese non dimentichiamo il primo posto per distacco nel progetto giovani peraltro gara si diceva che si mette anche bene due volte col vantaggio a fine primo tempo della Ruggeri e dopo il pari inizio ripresa delle Romane di nuovo grazie a Prenna poi il 2 a 2 e il vantaggio laziale fino al 4 a 3 De Siena sigla una doppietta il secondo dei due gol che sancisce il 4 a 4 praticamente allo scadere sembra un fausto segno del destino ma così non andrà ai supplementari a far gol sarà solo l'FB5 nonostante i tentativi tutt'altro che fortunati delle pescaresi che escono in lacrime ma a cui va l'abbraccio insieme con la gratitudine di una regione intera grazie Florida grazie davvero di cuore vigilia dell'esordio interno dell'Atomos Chieti che sabato 5 giugno alle 17 riceveranno Ancilla dopo aver vinto la prima di campionato ad Anzio ascoltiamo le prospettive di questa stagione per la forte squadra di softball Teatina vediamo due giocatrici dell'Atoms Chieti che hanno festeggiato i 30 anni di attività 30 anni veramente una vita partiamo da te Cate di prima che sia anche un pezzo grosso di questo mondo perché sei presidente regionale anzi Abruzzo e Molise della Fibs sarai onorata di essere al vertice assolutamente sì e speriamo anche di avere una risposta positiva anche dal comune da tutti gli enti che locali che ci aiuteranno per il proseguo e per tutto ciò che potremo fare nei prossimi mesi assolutamente sì noi siamo combattenti quindi cercheremo di spingere il più possibile affinché tutti conoscano questo sport Allora avete cominciato benissimo con un successo esterno contro l'Ansio Siamo state molto soddisfatte di aver iniziato bene il campionato e certo sabato qui in casa riceveremo una squadra molto esperta molto aggressiva Sabato alle? Sabato giochiamo la prima partita alle ore 17 e la seconda alle ore 19 La Ciglia è una bella squadra bella tosta la conosciamo bene l'abbiamo incontrata tanti anni e speriamo di divertirci e di riportare a casa un bel risultato quest'anno la squadra è piena di ragazze giovanissime provenienti dal nostro settore giovanile il rientro della nostra lanciatrice Anna Salvatore l'anno scorso in prestito a Macerata in Serie A2 e del catcher Sara Mammarella ovviamente insieme loro compongono la batteria lanciatore catcher ovviamente alza il livello qualitativo della squadra però subito dietro loro abbiamo altre due ragazze molto brave che lanciano e ricevono sono under 21 anche loro Giorgia Di Santo e Alisa Terenzio che domenica scorsa ad Anzio hanno davvero ben figurato e questo era il nostro ultimo servizio vi ricordo alle ore 21 l'appuntamento con Velo l'approfondimento sul ciclismo a cura di Jacopo Forcella e Luciano Rabbottini il telegiornale finisce qui da parte mia l'augurio di una buona serata con i programmi di TV6